Un Natale all'insegna della spiritualità, della sobrietà e dell'essenzialità. E' il messaggio che arriva dalla Chiesa ai tempi del Covid. Ai microfoni di TV City il parroco e il viceparroco della Basilica Pontificia di Santa Croce, Don Giosuel Lombardo e Don Antonio Germano fanno una riflessione su questo Natale 2020 e rivolgono un messaggio di auguri alla comunità cittadina. Anche una pandemia non può spegnere la nostra gioia per l'incontro con Gesù. E come ha detto Papa Francesco, e questo è vero per sempre, non solo per quest'anno, il consumismo ci ha rubato il Natale. Ora ce lo dobbiamo far restituire, ritornando a una spiritualità, a una essenzialità, anche in maniera più sobria la celebrazione di questo Natale. E poi recupero una riflessione da una delle ultime udienze nel tempo di Avvento. Ha detto anche il Natale di Giuseppe e Maria non fu tutte rose e fiori. Ecco, quando noi sperimentiamo le difficoltà, le difficoltà sono abitate da Dio, non sono l'assenza di Dio, sono la visita di Dio anche le difficoltà. Non dobbiamo lamentarci delle restrizioni e dare spazio alla solidarietà, recuperando i veri valori per vivere il Natale nel significato più autentico e profondo. Più che lamentarci delle restrizioni, guardiamoci intorno e diamoci da fare per le persone che sono nel bisogno. Ecco i miei auguri, mediati da Papa Francesco. Non voglio aggiungere proprio nulla di mio, soltanto l'autorevolezza del Papa, la forza della sua testimonianza. E poi lui ha richiamato anche il presepe, no? La dolcezza del presepe. Il presepe, soprattutto per noi torresi, prima ancora di essere messo in scena, viene portato nel cuore. E allora andiamo al cuore, andiamo al cuore del Natale. Meno ciasso, meno frastorno esteriore, più sostanza di affetti e di aiuti concreti a cien nel bisogno. Natale buono a tutti. E giungano a tutti i fedeli della Basilica, ma anche della città, gli auguri per un Santo Natale. Le facciamo qui dalla casa di San Vincenzo Romano, dalla Basilica che ha costruito Vincenzo Romano, per noi torresi una reliquia, ma ecco la facciamo qui, gli facciamo da qui gli auguri, dinanzi alla mangiatoia vuota con la parola, vuota perché attende anche la mangiatoia, la nascita di Gesù Bambino. Un Natale particolare, forse ho detto anche ai fedeli nelle domeniche scorse, un Natale particolare per l'esteriorità, perché il Natale è sempre particolare, perché è particolare il nostro rapporto con il Signore, è particolare la nostra accoglienza a Gesù. E quest'anno, forse in maniera particolare, ecco, non dobbiamo impegnarci solo a mettere Gesù nel presepe, nelle culle delle nostre case, ma in maniera particolare lo dobbiamo mettere nel cuore Gesù, perché è Lui che vuole nascere lì Gesù, nel cuore. Gesù è nato più di duemila anni fa, è nato a Betlemme, è nato nella grotta, lì dove c'era Maria, dove c'era Giuseppe, ma ogni anno noi fedeli dobbiamo impegnarci a farlo nascere nel cuore, ad evitare, ad eliminare dai nostri cuori quella che l'invidia, la gelosia, la calunnia, ecco l'augurio, perché possa essere un Natale essenziale questo, un Natale di Gesù e non un Natale di altre cose, del consumismo, ma che possa ritornare alla sua festa originaria, il Natale di Gesù, come scritto sul calendario, come la Chiesa ci fa celebrare, che sia anche così il Natale di Gesù nei nostri cuori. Buon Natale di Gesù a tutti voi.